Sono la classe quarta e abbiamo imparato un libro gigante che rappresenta gli alberi del nostro terzioso. L'abbiamo fatto anche per il nostro lavoro che rappresenta cani, gemme e foglie. Questo lavoro qui l'ha fatto Aurora, che rappresenta la prima vera. Questo lavoro qua l'hanno fatto Riccardo e Alfred, che rappresenta l'albero dell'avviso. Questo albero qui è il Platano e l'hanno fatto Vale e Giada. Questo albero qua è l'Arce e Roca Pestre e l'hanno fatto Camille e Maria Sottino. Questo è il Reggio, l'ha fatto Eric e Brian. Questo è il Noce e l'hanno fatto Remi e Ilenia. Questo è il Signo e l'hanno fatto Naike e Gabriele. Questa è la Pineapple Edge che non ha fatto male tutti e Daniele. Questo è il Corpino Bianco e l'hanno fatto. Questo è il Piozzo da Serino. Questo è il Corpino, l'ho di l'ho di Ero Questo è il Corpino, l'ho di Grazie per la visione!